musica 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 io ho visto le moto come? l'ho visto un moto che ha detto? l'ho visto un moto bella da Wincista è molto molto di no ricominciamo ma quanto sei brava tanto si ha pochissimi ingredienti però infatti è un po' grande questa ciotola bravissima quanti anni hai? fallo sapere due anni tre e mezzo quasi due tre e mezzo quasi due forse volevi dire due e mezzo quasi tre sì mezza mostina di lievito istantaneo per dolci e c'è un po' di mi brucia e c'è un taglietto amore c'è un taglietto e mescoliamo per bene brucia brucia amore così no 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 non è buia c'è una pellicina ma non è una mezzo ah va bene ma poi la pulisci subito va bene buonissimo buonissimo ora fai così no senza cominciamo ahahah e ma quando tu stai c'è una c'è una c'è una vecchia fumatrice ahahah tutti questi grissini che me è meglio ahahah bravissima con il lago si si dopo il lago col sapone con il sapone prima 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 impastiamo con il sapone anche si prima impastiamo prima impastandiamo ahahah 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 ahahahah ciao ragazzi bentornati con le ricette dell'amore vero ahahah ma tu sei bella ahahah ahahah ahahahah ahahah ma mamma mamma ma mama che la lageo papa avanti la Dia bella mai promana Grazie a tutti